Buongiorno a tutti, sono molto contento. Benvenuto qui con noi. Marco Dell'Acqua è, cos'è? Uno scrittore sì, ma non sono? Sì, ma no, ma nella vita di tutti i giorni, diciamo, quando non faccio il tifoso anche per lettera, per computer, diciamo, mi occupo di ricerche di mercato e poi comunque collaboro anche con varie riviste, un po' dal punto di vista professionale, un po' anche dal punto di vista sempre della passione. Sei nato nel 1966, quindi la tua esistenza è in tonsa, cioè coppe di campioni vinte dall'Inter nella tua esistenza non ce ne sono. Sì, infatti, non ce ne sono, giusto in tempo, perché insomma, poco dopo, poco dopo l'ultima loro apparizione, poco dopo l'ultima apparizione della grande Inter, che come si capisce subito dall'aggettivo, la grande Inter è usata al singolare, perché non ce ne sono state altre. Di grandi Milan, quale scegliamo? Quello di Nordal, quello di Sheva, quello di Kakà, quello di Rivera, ognuno ha il suo, diciamo. Quello di Van Basten. Quello di Van Basten, chiaramente, no? Ognuno ha il suo, come ognuno ha il suo giocatore preferito. E invece di loro, insomma? Di loro c'è la grande Inter, poi certo la fila Stroke è sempre quella, Sarti, Bugni, Facchetti, però... Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Perché è qui con noi? Marco Dell'Acqua perché ha scritto un libro, che possiamo vedere in grafica, si chiama 101 motivi per odiare l'Inter e tifare il Milan. Io qui leggo perché l'Inter, e ti chiederò subito, è un tribute team del Milan, perché Enrico non era Sacchi e soprattutto l'Inter non è il Milan, perché credevamo che non potesse esserci un allenatore più antipatico di Mancini, ma Murigno ci ha fatto cambiare idea, perché noi avevamo il cigno, loro la pantegana, perché nello stemma del Milan c'è quello di Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente partiamo da un concetto, Marco, odiare ha un significato letterario, no? Scalcisticamente, insomma, non è che andiamo, anzi, lo diciamo anche nella prefazione, tant'è che colui che ha scritto l'equivalente contro il Milan, diciamo, è anche un mio amico, Dante, Sebastio, ci conosciamo, insomma, ci siamo anche scambiati qualche primizia, insomma, qualche cosa che io sapevo anche del Milan e che poteva essere utile a lui, e poi, insomma, il discorso è sempre quello anche di prendere un po' in giro dello sfottono, ad esempio, diciamo, questa è una cosa che ci ha divertito, che l'Inter, gli interisti, loro sono sempre arrabbiati anche quando vincono, e l'unica partita in cui sono un po' più rilassati, per paradosso, è il derby, perché hanno di fronte l'unica squadra che odiano più della loro. E' vero, perché loro quando perdono odiano la loro squadra, sono i primi a infierire. I primi a infierire, cioè, sempre. Mentre noi quando perdiamo siamo afflitti come la nostra squadra, insomma, siamo addolorati al fianco della nostra squadra. In questo senso sì, e secondo me, senza spingersi in discorsi, come dire, antropologici, cittadini, insomma, perché poi ovviamente questo, in Italia ci sono molti milanisti, come anche molti interisti, però questo è un libro anche abbastanza milanese, perché nelle altre parti si tiene al Milan, ma non c'è la rivalità con l'Inter, in altre zone d'Italia, dove pur ci sono molti milanisti. Fuori dalla Lombardia il milanista patisce di più la rivalità con la Juve. Con la Juve o con la squadra, ma eventualmente locale, se tu stai a scuola Roma. Anche se a Roma ci sono tanti interisti, questo qui è sempre un... Infatti c'erano quel giorno lì, famoso, al 5 maggio, avevano tutto lo stadio a favore, e nonostante questo... Quindi insomma, odiare è, diciamo... Sì, insomma, non è vero. Non è vero. Detestare. Non odiamo nessuno. E' una buona mediazione. Prendiamo in giro, giochiamo, prendiamo... Anche perché poi la verità è che tu... Noi che cosa abbiamo? Abbiamo anche un po' la sindrome della pancia anche piena. È vero che uno non è mai sazio, però insomma... Ok, noi siamo usciti malamente con il libro, ma abbiamo vinto due anni prima, abbiamo vinto e rivinto due anni dopo. Cioè, per loro è più dura. Diciamo che... Sì, l'unico ricordo a colori della Coppa dei Campioni, di una finale che hanno, come diciamo anche nel libro, è quello del film di Sandro Cioti, Il profeta del gol, dove si vede Cruyff, che gliene spara due nel 72, e un giovanissimo, Lele Oriali, che racconta come non poteva marcare... Il questore. Il numero 14. Sai che i tifosi milanisti, abbonati a Milanciane, hanno ribattezzato Oriali il questore. Ah sì. Quello che fa i passaporti. Ah, ecco, questa cosa... Non la sapevi questa. Non la sapevi questa, quindi... Allora, Marco, perché sostieni che l'Inter è un tribute team del Milan? Cosa vuol dire? Allora, vuol dire molto semplicemente che, come le tribute band, loro imitano i loro idoli, no? Quindi, cosa vuol dire imitare? Arrivare sempre dopo, alla fine, no? Nascere dopo, vincere dopo. Vincere la Coppa dei Campioni dopo. Eventualmente, se dovessero andare in Serie B, non si sa mai, eh? Anche in questi giorni. Sarebbero secondi anche in quella. Il calcio, noi milanisti, ha dato tutto. Manca solo quella cosa lì. Vincere la Mitropa. Non c'è più. Non c'è più, insomma, però, qualche altro torneo. Infatti, come dico, vabbè, noi anche nei derby li abbiamo cucinati in tutti i modi. Vincendo l'ultimo minuto, vincendo sotto rette, vincendo il derby, o meglio, qualificandoci nel derby. Perché, come dico io, uno può vincere tante Coppa dei Campioni. Loro potranno vincere anche una Coppa dei Campioni questa. Ma come la nostra, con semifinale contro l'Inter, a rosicare ancora adesso sul colpo di testa di Cordoba. Fantastico, sì. E in finale contro la Juve è irripetibile. Per un milanista è nirvana. Marco, abbiamo iniziato celiando, no? Abbiamo iniziato, insomma, che tu accenni a qualche sorriso ogni tanto. Però io adesso volevo presentarti, insomma, un po' più nel dettaglio ai nostri tifosi, agli abbonati a Milan Channel. Perché tu scrivi a pagina 14 del tuo libro che nell'aprile del 2006 è richiuso in una stanza del sesto piano dell'Istituto dei Tumori di Milano. Che tra l'altro è un istituto che ho avuto la circostanza di frequentare molto spesso tre anni fa e che ho trovato di una dignità e di una ricchezza umana senza precedenti. fatto questo intervento.